Un bambino di otto anni è morto oggi a scuola in un istituto di Sant'Antonio Abate, comune della provincia di Napoli, piana dei Monti Lattari. Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe avuto un malore durante la lezione di educazione fisica. Portato in codice rosso in ambulanza all'ospedale San Leonardo, i medici non sono riusciti a salvarlo. Si è spento il nosocomio di Castellammare di Stabbia. Indagano i carabinieri della locale stazione. La vicenda è accaduta al primo circolo didattico De Curtis di Sant'Antonio Abate, nella penisola sorrentina. Sconvolti i compagni di classe del bambino erano assieme durante l'ora di educazione fisica, quando improvvisamente è accusato un malore accasciandosi al suolo. Immediato l'arrivo del personale medico sanitario del 118, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto sono giunti anche gli agenti e la scientifica per i rilievi. Nessuna ipotesi è al momento esclusa. Quasi certamente alle prossime ore verrà fissata un'autopsia sul corpo del giovane con l'apertura di un fascicolo da parte del magistrato e la procura della Repubblica di Torre annunziata. La vicenda è accaduta al primo circolo didattico di Torre annunziata.